Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul canale, siamo ancora qui nella nostra fantastica cittadina di Springfield e siamo pronti e carichi per andare a riscuotere, come vedete qui, un bel po' di soldi dai nostri cittadini perché noi siamo il sindaco di questa città e dobbiamo arricchirci alle spalle di questi poveri come vedete qui che vanno a raccattare dai bidoni delle immondizze, quindi che schifo, che schifo ma noi vogliamo i soldi perché vogliamo arricchirci allora dette queste stronzate ragazzi, scusatemi per questo inizio un po' ballerino io direi di riscuotere subito queste belle verdurine dalla fattoria di Kletus di raccogliere da Ned Flanders, di vedere un po' di danaro sonante perché l'altra volta ci siamo sbagliati, non è tonante ma è sonante e quindi le cose vanno dette giuste per come sono qui abbiamo raccolto un po' di soldi da Milaos che ci sta facendo quella bella missione ragazzi abbiamo preso un sacco di dollarozzi APU perfetto, ci ha raccolto un altro po' di moneta e direi di giocarci i nostri soldi appena guadagnati sulle spalle dei nostri cittadini al Jet Market con i gratte vinci abbiamo vinto 750 dollari perfetto, direi perfetto dopodiché abbiamo la missione di questo qui non so come chiamarlo questo aggeggio volante del professore anzi Frink i magnifici secchioni riscossa e c'è già un'altra pronta dopodiché qui abbiamo soufflé di carne raccattata, completata e in frattempo casa Simpson già è pronta abbiamo preso 3000 dollari in una sola botta ragazzi, perfetto e tra l'altro possiamo anche completare la scuola elementare non dovresti essere a scuola? sbloccato, preside Skinner nuovo personaggio nel nostro regno scusate, non è il regno, non è la nostra città anzi mi sono confuso 25 esperienza, ok personale della scuola il primo personaggio guardate quanti ci sono della scuola che schifo la cuoca mi ha sempre fatto abbastanza schifo il prossimo dovrebbe essere Willy ottimo lavoro Lisa la scuola è ritornata come era prima il che vuol dire che non è granché infatti ma almeno c'è e questo vuol dire che io ho un lavoro Bart non è qui, vero? non sento insegnanti che gridano allarmi antincendio perciò dire di no spero che si faccia vivo presto e io spero il contrario beh, noi speriamo quello che spera Lisa perché lo vorremmo presto e al più presto sì che ci serve l'istruzione parte 2 100 dollari 280 esperienza siamo vicinissimi ma proprio vicinissimi a livello 10 mi sa che Bart si sblocca a livello 12 quindi dovremo pazientare un pochino ancora però insomma sta abbastanza arrivando vediamo un'espansione che potremmo comprare oggi la prima è 9100 e 9100 quindi per adesso direi di aspettare un pochino però abbiamo delle missioni da svolgere e quindi le svolgiamo vediamo Lisa cosa vuole costruisci la casa bianca praticamente Lisa ci sta soltanto facendo costruire case a raffica abbastanza inutili tra l'altro perché sì è vero ci danno dollarozzi però a livello di storia insomma anche perché sono case semplici colorate quindi abbastanza inutili la mettiamo qui perfetto un'ora in costruzione vediamo cosa vuole il professor Frink fai provare un marchingegno il professor Frink ok prova un altro marchingegno questa volta è un UFO un radiocomandato sì dovrebbe essere un UFO va bene va bene perfetto voglio vedere il preside Skinner eccolo qui guardate quanto è bello ragazzi preside Skinner salve che missioni hai un bel po' di missioni perfetto però non ci da niente da fare questa invece è la scuola elementare guardate qui c'è tra l'altro un pallone lì sul tetto veramente veramente figa non so perché dice il preside che è brutta ma a me sinceramente piace tanto dobbiamo trovare un posto dove mettere la scuola e io sinceramente la metterei dietro la fattoria di Cletus solo che mi sembra non so la fattoria di Cletus mi sembra più zona allora guardate possiamo fare così possiamo fare così per adesso piazziamo qui la casetta mettiamo il benzinaio vicino alla fattoria di Cletus perché non ci sta una scuola elementare insomma una struttura pubblica vicino a quello schifo che c'è pure un gabinetto lì fuori quindi facciamo così dopodichè la scuola la piazziamo magari vicino al jet market così e ne so i ragazzi una volta usciti da scuola magari vanno a comprare delle cose e quindi già ci sta di più allontaniamo il Cresty Burger un pochino perché è troppo vicino tra l'altro alla casa rosa e vediamo se possiamo costruire una strada per caso vediamo un po' no la più vicina che mi fa costruire è così però in realtà non è malissimo ecco tipo così me lo fa fare oppure qui ci uniamo le strade facciamo così ecco così per esempio potrebbe andare bene però non lo so se tipo proviamo a fare così ecco così magari già ci sta di più sì dai lasciamola così così mi piace abbastanza e per adesso il Cresty Burger lo lasciamo là poi man mano che costruiremo altre espansioni altri edifici lo spostiamo più in lontananza perché insomma è abbastanza vicino così per quanto riguarda invece il benzinaio io direi di fare così e poi magari ci piazziamo qualche macchina ah tipo questa macchina qua questa macchina qua proviamo a tipo a piazzarla al benzinaio che dite voi così ecco magari visto che è una macchina ce la piazziamo lì e invece qui che c'è questa casa qui che c'è questa casa proviamo tipo a metterci l'asfalto ecco così e lasciamo per adesso così poi non appena troveremo dell'altro insomma modificheremo un po' all'Ucra direi che perfetto per come abbiamo spostato in questo episodio a me soddisfa abbastanza stiamo crescendo stiamo crescendo ragazzi la nostra città diventa sempre più grande e sempre più piena di gente come vedete e quindi direi che facciamo un rapido giro delle missioni ok e quindi siamo arrivati ancora a quelle dell'evento siamo a 25 come vedete su 115 marmitte quindi mandiamo un po' di personaggiore a raccoglierci marmitte 20 non male non male tra un po' terremo Bart quindi ne avremo un'altra di più dopodiché abbiamo la ruota qui fa in modo che i Simpsons scappino dai chiaschi furgone non possiamo farlo però possiamo penso no neanche quello non possiamo neanche raccogliere le borchie qui Homer e Cletus non possiamo fare niente Milhouse lo mandiamo 4 ore a fare la missione giornaliera e niente non possiamo farlo mentre qui raccogli lingue d'argento ok 8 ore lo possiamo fare così almeno insomma raccogliamo 3000 dollaroni e insomma arriviamo di nuovo a una cifra più alta anche perché dobbiamo arrivare a 9000 per sbloccare la prossima espansione mi voglio avvicinare la spiaggia in modo tale che poi magari possiamo anche mettere qualcosa di marittimo spero non lo so se si potrà fare però giudicare ecco vedete qui tipo la sdraio penso che si potrà fare qualcosa sul mare ok vediamo Apu 4 ore il preside Skinner gli facciamo fare anche a lui 4 ore e poi Ned ci finisce anche a lui le 4 ore io metto 4 ore perché insomma meno male mi permette di gestire guardate questa è l'attività di Skinner gestisce il traffico aiuta ad attraversare insomma bravo bravo preside e dicevo metto le 4 ore perché mi permette di non dover stare sempre insomma attaccato al gioco e di racimolare allo stesso tempo un po' di soldi ed esperienza durante la giornata ragazzi io direi che per questo episodio possa essere tutto vi ringrazio per aver seguito anche questo episodio in mia compagnia ci rivediamo al prossimo episodio e speriamo di accogliere presto nuovi personaggi auguro a tutti una buona serata e ciao ragazzi grazie